Il Memorial di Lanciano è soltanto uno dei tanti eventi dedicati a Marco? Beh sì, è uno dei tanti eventi dedicati a Marco, devo dire che si stanno susseguendo un po' in tutta Italia e di questo siamo felici perché tutti fanno delle donazioni alla Fondazione, quindi il mio lavoro viene ripagato in qualche modo. Tu prima hai detto che non mi aspettavo forse che Marco fosse così dentro nel cuore della gente. Sì, questa è una cosa che non riesco ancora a capire, però mi fa un piacere immenso. Mi fa un piacere immenso ed è stranissima questa situazione che un ragazzino normale abbia sconvolto tanta gente. Forse la parola giusta è proprio questa, lui era un ragazzo normale ed era un puro, questo ve lo posso garantire. e la gente lo ha capito, la gente li ha voluto bene e spero che continui e grazie insomma. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Parlare di sicurezza stradale oggi è importante perché quello che è l'educazione di tutta la collettività non è il solo conducente che può procurare danno a se stesso ma anche a tutti. Certo, con il capito codice in continua rivoluzione ci porta ad aggiornarci, a fare degli incontri periodi di quello che è il cambiamento. Per quanto riguarda la fase attuale abbiamo visto che siamo riusciti a diminuire quello che è i incidenti ma anche le cause della morte in generale di credito, il costo sociale delle vicine. Eccolo! 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 Chiudere! Eccolo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, rimango molto soddisfatto perché è stata una giornata anche di sport, di manifestazioni sportive fuori in pista. È stato un momento positivo che ha riguardato non solo le grandi novità, la presenza della Sevel e anche un momento di solidarietà in favore della fondazione Il Sorriso di Marco Simoncelli. Arrivederci all'anno prossimo. Arrivederci e sicuramente bentornati già al 2013 per Ruote e Motori Show XIX edizione.